Al Carotti l'incontro tra Iesina e San Nicolò Notaresco finisce 0-0. Un punto per uno dunque con qualche rammarico per la Iesina che nel secondo tempo ha provato ad accelerare ed ha visto l'urlo del gol strozzarsi sulla linea di porta. Gare in chiave difensiva per il San Nicolò che non è mai riuscito a creare vere e proprie occasioni da gol. Mister Ciampelli attinge la lunghezza della Rosa e manda inizialmente in panchina Bordo e Cameruccio mentre si vedono dal primo minuto mattinata a centrocampo e Barbetta sull'esterno alto di sinistra. Nel San Nicolò Mister Cudini si affida alla vena offensiva di Santiago Minella e alla verve dell'ex Francesco Bontà. Arbitra il signor Tartarone di Frosinone e come pessima abitudine terreno di gioco in condizioni infami. Le squadre si studiano e sono attente a non lasciare varchi. Gli avanti vengono cercati spesso e volentieri con lanci lunghi e lo spettacolo resta chiuso negli spogliatoi. Primo squillo per la Iesina al quindicesimo con lo spunto in area di Cruz Pereira che poi va a cercare Barbetta ma l'esterno Scuola Ascoli cicca la conclusione. La Iesina arriva con buona frequenza sulla trequarti avversaria senza riuscire però a trovare la giocata vincente. Ancora i loncelli al trentasettesimo con Ricci che prova la conclusione rete ma Monti è attento e manda in corner. Il primo tempo è tutto qui. Nella ripresa musica e ritmi sembrano non cambiare con le difese che prevalgono sulle giocate dei singoli e centrocampisti più predisposti a badare al sodo che a cercare la giocata. Si fa vedere finalmente il San Nicolò al quindicesimo con un tentativo dalla distanza di Candellori ma Anconetani respinge seppur con qualche affanno. A questo punto la Iesina cambia marcia e decide di andare a cercare con decisione la vittoria. Al ventesimo il neo entrato a bordo inventa un assist cartesiano per Ricci che prova la botta in porta. Monti è superato ma quando il gol sembra cosa fatta interviene Dalmazzi che salva incredibilmente il San Nicolò. Davvero provvidenziale l'intervento del difensore rosso-blu che vale con una marcatura personale. Sfortunata la Iesina. Al ventinovesimo ancora azione da gol per i Leoncelli con il solito Ricci, davvero incontenibile il furetto Leoncello che si fionda in aria e con un pizzico di egoismo cerca il gol e ancora una volta però Monti interviene. Inizia il tourbillon di cambi con Mr. Ciampelli che a sorpresa decide di giocare il finale di gara senza un centro avanti di ruolo ma il San Nicolò decide di accontentarsi davvero ed abbassa ulteriormente il baricentro con la Iesina che gradualmente finisce le energie. 0-0 quindi con la differenza di punti in classifica tra le due squadre che in campo in realtà non si è vista. La Iesina ha dimostrato ancora una volta di aver trovato una buona quadratura in campo ma continua a soffrire di un terribile mal di gol, una sola rete segnata su rigore contro il Sant'Arcangelo nelle ultime tre uscite. Il San Nicolò ha raggiunto l'obiettivo di continuare a muovere la classifica ma oggettivamente dalla terza formazione in graduatoria ci si poteva e doveva aspettare qualcosina in più. Ribadisco il finale da Iesi, Iesina-San Nicolò notaresco 0-0.